Sindaco Alessandrini, questa mattina in Regione è importante riunione per parlare del problema acqua di Pescara e soprattutto del nuovo depuratore. Ci sono due linee di condotta che porterete avanti. L'obiettivo naturalmente di lungo periodo è la realizzazione di un nuovo depuratore. Abbiamo provveduto all'individuazione di una serie di aree che sono prossime al depuratore esistente. Poi ci sono misure invece di breve periodo che sono altrettanto importanti perché servono sostanzialmente a diminuire l'attuale afflusso di acqua da depurare al depuratore. Questo significa da un lato operare forme di collettamento verso altre impianti di depurazione per sgravare, in particolare San Martino, per sgravare la portata del depuratore di Pescara e l'altro è invece la realizzazione di vasche di laminazione. Cosa sono le vasche di laminazione? Sono delle grandi vasche in cui far affluire le acque che durante le piogge sono tante e mandano in tilti il depuratore. Si tratta di accumularle lì in attesa di inviarle al depuratore. Ci sono due opzioni, credo quella più significativa è quella per cui vogliamo realizzare una vasca di laminazione lungo l'anza del fiume per guadagnare anche uno spazio su quella parte, quello spazio sull'acqua e consentire sostanzialmente la realizzazione di una piazza ulteriore come luogo di incontro delle persone. Fissare un tempo di avvio dei lavori si può già ipotizzare una data? Un depuratore si costruisce in un paio d'anni, bisogna naturalmente avere la disponibilità delle aree e questo è ciò su cui stiamo lavorando visto che Pescara, questa straordinaria città, è povere di territorio e quindi il recupero di aree diviene un'operazione faticosa ma necessaria proprio per consentire lo sviluppo, la crescita del nuovo depuratore.